Luxto Di Paola, rego. Quando mi si dice vuoi fare coalizione? Assolutamente sì. Io voglio fare coalizioni e spero che il Movimento 5 Stelle continui a fare coalizioni con tutte quelle forze politiche che si rivedono in accordi o punti programmatici che pensano al sociale, pensano alla scuola pubblica, pensano alla sanità pubblica e quindi coalizioni assolutamente sì perché noi dobbiamo governarle le comunità, le regioni, i comuni. E dopodiché su questa vicenda del discorso dei mandati, ma riflettiamoci bene, io non avrei fatto fare ad alcuni deputati, ad alcuni portavoce, non avrei fatto fare nemmeno un mandato. Di cosa stiamo parlando? Allora che si premi la meritocrazia, che si premono quelle persone che nei territori si impegnano, che si premono quelle persone che portano avanti i valori con forza del Movimento 5 Stelle, che siano i gruppi territoriali, l'organizzazione, il Presidente a scegliere chi merita o chi no. Se c'è la possibilità di dare l'opportunità a casi eccezionali o ad alcuni portavoce che hanno svolto nel migliore dei modi e con rispetto ed autorevolezza il loro ruolo, perché non dare la possibilità assieme ai gruppi territoriali e al Presidente dell'organizzazione di scegliere se fare o meno un ulteriore mandato? Io questa cosa non l'ho mai capita del perché, perché poi noi ci ritroviamo a supportare, e ben venga perché noi queste destre le dobbiamo battere, candidati a sindaco, a Presidente della Regione, che magari hanno fatto più mandati rispetto a quelli del Movimento 5 Stelle. Allora deroghiamo, diamo la possibilità ai consiglieri comunali di poter non considerare il loro mandato, così come per sindaci e presidenti. Grazie.